Bentornati e benvenuti su Plenoctis. Siamo qui con un video, parliamone, proprio per commentare un post di Facebook di Damaso Scibetta che volevo commentare da molto tempo, lo volevo fare con la Meridiana Critica su Twitch, ma in realtà poi ho deciso di farlo qui su YouTube perché secondo me i temi che andremo a trattare, il discorso che andremo a fare, si prestano più per un video fisso da tenere qui su YouTube che può essere utile per tutti, può essere una discussione che comunque non durerà due ore o un'ora e mezza come invece avviene normalmente quando leggo gli articoli sulla Meridiana Critica. Quindi la mia idea è proprio quella di andare a prendere il post di Damaso in cui lui ha parlato della questione del metodo critico e commentarlo punto per punto fornendovi la mia idea e la mia risposta a questo suo post sperando che appunto possa essere utile e possa dare uno spunto di riflessione un po' per tutti. Vado a prendere il suo post che ho posto come immagine e vi metterò come immagini qui sul video in modo tale da non, rispetto anche della privacy sua, mia e di tutta l'apertura di Facebook mondiale ho copiato il testo e l'ho riproposto su immagine in modo che voi possiate averla sotto e io leggerla direttamente. Sentiamo cosa scrive Damaso. Io sostanzialmente sono d'accordo. Lo dico sempre, per me la recensione è un giudizio di qualità, un giudizio di valore su un'opera. Non è niente di differente. Quando mi si viene a dire o quando viene esposto alla questione per cui la recensione in realtà è una guida per gli acquisti, la recensione è semplicemente la visione del recensore e di chi sta facendo quell'articolo o semplicemente il parere, l'opinione soggettiva di chi sta facendo quell'articolo semplicemente si sta dicendo che la recensione è diventata questo, la recensione è questo negli ultimi anni ma la recensione come parola e come termine nasce per indicare il giudizio di qualità che si può fare su un'opera. È un parere perché ovviamente viene fatta da un recensore, viene fatta da una persona ma il punto fondamentale è sempre quello, cioè il giudizio di qualità, quindi bisogna dire che c'è una qualità all'interno dell'opera che viene cercata, viene giudicata dal recensore che quindi determina quant'è questa qualità o qual è questa qualità andando a fornire appunto i dettagli di qual è questa qualità, di cosa c'è effettivamente nell'opera e quale sia effettivamente il suo valore. Come sempre, voi sapete se mi seguite, per me è una questione oggettiva nel senso che c'è un'oggettività di valore all'interno dell'opera e il recensore lo deve dire, la deve dire deve esprimere il suo giudizio andando a dire cosa c'è effettivamente nell'opera di oggettivo e cosa c'è effettivamente nell'opera dal punto di vista del valore, qual è il valore oggettivo di un'opera. Cosa dice poi Damaso? Cos'è che differenzia il parere di Shea su IGN Italia da quello di un giocatore qualunque? A costo di apparire stronzo, quello che lo differenzia non è la quantità di giochi giocati non è la quantità di recensioni scritte, non è il numero di studi effettuati e non è il fatto che sia pagato per farlo, è qualcosa di piccolo e di essenziale. Il metodo critico. E qui diciamo che la discussione non la terrei nemmeno io troppo sulla questione che cos'è una recensione e cosa non è perché l'abbiamo affrontata altre volte. Qui si va nel dettaglio a dire però quando è che una recensione e quando è che un critico diciamo può essere definito tale il critico perché qual è l'autorità che può avere un critico rispetto a qualunque altra persona? Quando è che la recensione è differente da uno che dice sta cosa fa schifo e da un altro che invece ti fa 20.000 caratteri, 30.000 caratteri di recensione oppure ancora di più ti esprime comunque con una visione, un'idea, quello che invece pensa, qual è questa differenza sostanziale? Sono d'accordo con lui nel fatto che non possa essere nemmeno il numero di studi effettuati non possa essere la quantità di recensioni scritte e nemmeno proprio i giochi che uno ha fatto perché da quello non si evince la qualità, l'autorevolezza di chi effettivamente va a fare una recensione ma questo per nulla, quindi lui lo determina come metodo critico è il metodo critico ciò che fa la differenza Cosa fa la critica nello specifico? Dà una serie di giudizi di merito per definire cosa sia più buono o più bello di qualcos'altro migliore o peggiore, meglio o peggio realizzato, interessante all'interno di un corpus o di un topus eccetera eccetera è più o meno la stessa definizione di critica che trovate nelle varie enciclopedie Per farlo però è necessario che una persona, il critico appunto, riesca a sviluppare internamente una serie di strutture personali che gli permettono di effettuare la valutazione Alcuni critici sviluppano quelle strutture in modo molto chiaro e schematico altri le creano in modo meno schematico ma vanno a fissare scale di valori che fanno sì che alcune caratteristiche abbiano più o meno peso rispetto ad altre Nel farlo ovviamente possono avere un ruolo, l'esperienza, gli studi fatti il rifarsi un approccio critico definito a una corrente ad altri critici a linee editoriali Questo fa sì che critici diversi possono avere opinioni del tutto differenti fra loro pur mantenendo entrambe massime validità Una cosa che però non può mai mancare a un critico è il metodo critico perché se è vero che per il motivo detto qui sopra critiche diverse di critici diversi sono inconfrontabili le diverse critiche di un autore devono essere confrontabili e paragonabili Al netto di maturazione e crescita del pensiero e del metodo critico dell'autore deve potersi visualizzare un metodo, un approccio comune e deve essere comprovato e visibile Allora, posto che io ho un metodo critico sono abbastanza fiero del mio metodo critico che poi vedete sempre in parte esposto non l'ho mai esposto del tutto perché è molto grande richiede un video che durerebbe veramente un'ora, un'ora e mezza ed è più facile farlo tramite un saggio o comunque un articolo dedicato che spiega esattamente qual è il mio metodo perché è piuttosto complesso lui pone il fatto che il metodo critico sia fondamentale per il ruolo del critico io non sono sicuro al 100% che il metodo critico inteso come appunto un metodo definito sia fondamentale cioè sia necessario affinché qualcuno possa essere un critico e sicuramente non è sufficiente perché tu puoi avere un metodo e puoi toppare tutto quello che dici ed è questo secondo me il punto fondamentale su cui sono in disaccordo perlomeno con quello che leggo in questa prima parte nel senso che per me non è vero che i metodi differenti di vari critici e le critiche di vari critici sono inconfrontabili fra loro perché il punto è sempre quello che sta all'inizio di questo testo e di quello che penso io se c'è la verità dell'opera il punto non è che tu ci arrivi con un metodo diverso dall'altro e quindi arrivi a conclusioni diverse dall'altro devi dire cose che sono effettivamente vere ma questo non vuol dire che io come sempre non è che significa che io ho il mio metodo critico che per me funziona allora quello che andrò a dire è sempre la verità perché il mio metodo funziona cioè non è il metodo che ti dà la garanzia che quello che andrai a dire sarà vero e quindi puoi anche fare a meno del metodo se dici cose vere se c'è una recensione che effettivamente non ha metodo e può capitare e capita anche molto spesso per questo magari si tende a dire vorrei che ci sia un metodo che ognuno abbia un metodo e che è utile che ognuno abbia un metodo perché molto spesso quello che succede è che un critico magari fa delle considerazioni giuste e ripeto non giuste perché io le approvo ma giuste perché le poniamo in questo discorso giuste in sé cioè è vero quello che viene detto una volta sotto certi aspetti per certe caratteristiche di un certo gioco e magari la volta dopo le stesse caratteristiche si ripresentano in un altro titolo e questa volta non vengono criticate o non vengono apprezzate perché ovviamente manca il metodo cioè manca andare a cercare le stesse cose sotto gli stessi aspetti ma il punto fondamentale è sempre quello che si dice magari un ottimo critico è quello per me un ottimo critico è quello che comunque dice la verità dell'opera come al solito uno dirà ma allora chi è che dice c'è chi è che può stabilire se il critico sta dicendo la verità o non la verità il solito discorso è la verità stessa ma perché altrimenti sarebbe tutto soggettivo ma a quel punto non ci sarebbe un metodo migliore un metodo buono ma non ci sarebbe nemmeno niente per poter definire cosa è meglio e cosa è peggio nemmeno niente per definire cos'è un buon gioco rispetto a un altro gioco perché sarebbe tutto in soggettività e allora non avrebbe senso fare tutto questo discorso ma questo è il solito punto dell'oggettività quindi io non credo che ci sia per forza di cose la necessità di un metodo penso che sia molto utile avere un metodo perché questo metodo ti dà come faccio io per esempio una serie di cose che vai a cercare sempre cioè il metodo deve essere universale perché ti permette di andare a cercare sempre le stesse strutture universali anche declinate nel particolare di ogni gioco ma in tutti i giochi in questo modo tu sai che non hai il rischio di non fare un ragionamento perché il problema è quello cioè arrivare a vivere l'esperienza di un gioco e non fare i ragionamenti che dovresti fare invece se tu hai un metodo che ti costringe tra virgolette a fare tutti i ragionamenti che devi fare su quel gioco che sono tutti i ragionamenti che hai fatto su un altro titolo su un altro titolo su un altro titolo sai che stai trattando tutti i giochi con lo stesso rispetto è il motivo per cui poi io finisco a giocare a baldo e a doverlo valutare a volerlo valutare con lo stesso metodo e non faccio ah ok ho già da baldo un'ora mi sono rotto le scatole e lo butto perché? perché devo per rispetto nei confronti delle opere rispetto nei confronti della verità delle opere della qualità delle opere valutare tutto con il massimo rispetto e tutto secondo gli stessi aspetti poi magari un gioco esce che per me è da 30 su 100 è da 2 su 10 però è ovvio che l'obiettivo del metodo è quello di darmi la possibilità di valutare tutto e andare a verificare tutto sotto gli stessi aspetti che sono universali poi nel particolare è chiaro che ci sono discorsi differenti perché i giochi sono differenti ma le categorie devono essere universali ma magari questo ne parliamo un pochino più avanti non sono d'accordo sul fatto che entrambi le opinioni totalmente differenti hanno la stessa validità cioè hanno la stessa validità ma tutte le opinioni hanno la stessa validità sul piano del fatto che si possano esprimere o meno nel senso che non c'è nessuno che può dire tu non puoi parlare a priori perché non puoi perché non c'è nessuno che soggettivamente può dire per me tu non puoi parlare allora ti impedisco di parlare ciò che delimita l'autorevolezza e la veridicità di quello che uno dice è proprio quello che uno dice cioè ciò che stabilisce se una persona è una persona buona è se fazioni buone non se è reputata una persona buona perché se tutto il mondo crede che fare una determinata azione negativa è buono allora quella persona diventa automaticamente buona perché è creduta buona no perché fa le azioni buone devono essere buone insieme questo è un discorso un po' più filosofico generale ma il senso rimane lo stesso cioè è quello che dice che determina se effettivamente quello che dice è vero che determina se effettivamente è un buon critico oppure no certo se c'è un metodo è meglio ma questo fa parte diciamo di tutte le di tutti i lavori e di tutte le professioni se hai un metodo se fai delle cose con un certo criterio ovvio che hai un po' più di autorevolezza perché hai qualcosa che ti supporta dietro se no non avresti non avresti magari il materiale per far bene tu questo non ti impedisce appunto di essere un buon critico infatti sono in disaccordo con la prossima frase cioè se c'è il metodo il critico è un buon critico se non c'è le sue recensioni sono carta straccia roba paragonabile agli annali di voluso per riprendere catullo solo me no solo me no perché dipende da quello che dice puoi non avere un metodo e fare la recensione migliore del mondo perché quello che dici deve essere vero perché se è vero quello che dici nella recensione senza metodo cioè semplicemente tu hai giocato a un gioco e stai dicendo stai ponendo all'attenzione di chi ti legge tutti i discorsi validi tutti i discorsi veri e questo ti rende automaticamente l'aver fatto una buona critica il metodo è per fare una metafora la chiave che permette ai lettori di aprire la recensione e capire con quali occhi sia stata scritta io sogno un box nella pagina autore di ogni testata in cui l'autore può manifestare il proprio metodo critico i propri riferimenti il pensiero l'approccio sarebbe sicuramente user friendly e comodo per chi legge la recensione di Arceus e poi minaccia di morte Elinar si via sul serio invece ci dobbiamo accontentare di fare una cosa un po' desueta leggere senza pregiudizi capire qual è l'approccio della persona che ha scritto nella speranza che ne abbia uno e comprendere quel giudizio all'interno di quel metodo questa cosa non è sbagliata nel senso che invece è molto buono se chi ha un metodo poi lo esponga in un box il punto è che il mio metodo non lo puoi esprimere in un box cioè c'è un sottostrato un sottotesto di considerazioni filosofiche alla base ma filosofiche non lo voglio dire perché sono considerazioni filosofiche ma perché è un sistema di concezioni e di cose che per me sono date che producono certi risultati cioè c'è una visione ontologica alla base cioè sull'esistenza tutta che poi mi porta a dire ok allora io posso fare questo discorso anche per l'arte una volta che fai questo discorso anche per l'arte tutta poi si arriva al videogioco e poi si arriva a definire il videogioco e il metodo che lo va a analizzare è chiaro che se io parto a metà o ti do solo una parte di questo ti manca tutta la visione complessiva per capire perché arrivo a dire certe cose e serve praticamente tutto un altro articolo molto grande o un saggio stesso per capire quali sono i riferimenti il pensiero l'approccio è difficile posso darti i pesi della media ponderata che ti fa capire cosa sto pesando più o cosa sto pesando meno ma è difficile mettertelo in un box però non è sbagliato concettualmente il fatto che se ho una chiave di lettura dell'articolo sicuramente lo comprendo meglio ma è una questione di comprensione e comprensione del logos cioè comprensione del discorso così io posso comprendere ciò che viene detto e ciò che viene detto quindi manifesta tutto il suo significato davvero al lettore perché tutto il discorso comprensione è un discorso che è diciamo laterale rispetto alla verità e il significato di quello che viene detto ma è un problema sicuramente perché io posso dire le cose più belle del mondo ma poi se non vengono comprese o se il mio messaggio arriva male per colpa mia per colpa dell'interlocutore è ovvio che c'è un problema io le cose le ho dette e quel discorso ha quel significato ma se non arriva c'è un problema di comunicazione quindi è chiaro che avere una chiave di lettura per comprendere meglio il metodo è fondamentale ad esempio io ho il mio metodo e tutto quello che scrivo recensisco valuta e analizzo viene tarato e guardato sotto l'occhio del mio metodo che continua ad affinarsi man mano che aumenta il numero di giochi valutati attualmente superiore a 1300 da queste considerazioni segue che non sono necessariamente un detrattore del voto il voto può avere valore all'interno del metodo critico di un autore o di una redazione è sicuramente forviante se non lo si guarda cercando di inserirlo nell'autore e nel suo metodo ovviamente il che capisco sia difficile se poi ci si concentra solo su quello il voto non è assoluto ma sempre in linea con il metodo questo significa che due autori possono giocare a Bioshock riscontrare gli stessi pregi e gli stessi difetti ma poi in base a loro differenti metodi critici dargli uno 6 e uno 10 ed entrambi hanno ragione a patto di essere coerenti con se stessi e con il proprio metodo critico non sono d'accordo non sono d'accordo sempre per una questione concettuale nel senso che nemmeno io io sono detrattore del voto ma questo lo sapete per me il voto è ciò che esprime quantitativamente ciò che io dico qualitativamente ed esprime un valore su una scala che per forza è anche quella assoluta nel senso che ovvio ovvio che se stiamo cioè per me il voto numerico ha un senso di per sé nel senso che quando io dico sto dando 6 6 la sufficienza poi è vero che poi possiamo porla in questo modo uno può mettere la sufficienza a 5 e lì c'è un pochino di discorso che si può fare su un metodo differente ma più di tanto non si può andare a dire che uno da 2 uno da 7 però il metodo è differente ma stanno dicendo la stessa cosa perché non stanno dicendo la stessa cosa perciò che quello che io dico è che nel momento in cui si sta quello che io chiamo un intorno di valore che per me è molto piccolo faccio l'esempio se io do 73 a un gioco e uno da 76 a un gioco non è che io mi metto a fare ah no tu hai sbagliato gli hai dato 76 il voto è troppo alto stiamo pensando totalmente differentemente è ovvio che in base a ovviamente matematicamente anche proprio materialmente come valutiamo può uscire un voto differente ma è chiaro che se io do 9 a una cosa e uno da 7 a una cosa stiamo parlando di due cose differenti perché il 9 significa capolavoro capolavoro di una generazione o comunque fra i capolavori della storia del videogioco e 7 significa un buon gioco per forza ma perché questo fa parte delle scale c'è proprio del senso della scala perché sarebbe impossibile dire che 2 ha il valore di capolavoro della storia perché nel mio sistema vale quello anche perché poi dopo il 2 cosa c'è niente è proprio un senso concettuale cioè per me i voti sono invece assoluti in senso concettuale perché come tutti i simboli i numeri sono simboli questa cosa va compresa i numeri sono simboli e sono simboli inseriti in un linguaggio quindi hanno un significato la matematica è un linguaggio e quindi quello che esprime ha un significato logico che può essere espresso anche a parole quindi a me i numeri servono semplicemente perché è più è più rapido confrontare su una scala le cose piuttosto che dargli altri tipi di simboli o altri tipi di discorsi è come se io dovesse dirti è meglio The Last of Us o è meglio Baldo così io ti posso fare tutto il discorso e poi ti posso dire a 1 do 3 e a 1 do 9 per dire e questo mi permette di già implicitamente utilizzare 9 e 3 come simboli di discorsi che stanno sotto quei simboli perciò 3 3 significa che è un gioco che insufficiente ha un sacco di problemi non funziona per questo questo e quest'altro che è ovviamente espressione di qualcosa che devo dire nella recensione e 9 è tutto un altro significato questo serve io potrei utilizzare altre cose potremmo anche utilizzare che da 1 a 10 utilizziamo gli unicorni e poi da 20 a 30 utilizziamo i leoni e poi da 30 a 40 utilizziamo i gatti e ogni volta però il significato è lo stesso cioè possiamo anche variare i simboli è il simbolo all'interno del discorso che prende il valore che gli vogliamo dare i numeri sono dei simboli che esprimono quantitativamente dei discorsi qualitativi e lo fanno appunto come simbolo di tutti quei discorsi e per me continuano a funzionare ovviamente se intesi in questo senso cioè se intesi come l'espressione quantitativa diretta di qualcosa che va confrontato e che sotto di sé ha tutta una serie di discorsi qualitativi però il punto è lo stesso sono assoluti per forza perché gli stessi discorsi qualitativi sono assoluti nel senso che tu non puoi dire che siccome cioè tu non puoi fare che ne so sempre un esempio però tu fai 10 critiche serie gravi di problemi gravi a un gioco però poi gli dai 8 questo è un controsenso oppure tu non puoi fare 10 critiche gravi a un gioco e poi poi dici che è bello perché o dici che è validissimo se dall'altra parte non ci stanno componenti invece positive perché quello è un problema di significato anche qualitativo di quello che stai dicendo se tu fai critiche strutturali di qualcosa che strutturalmente definisce la bellezza di un videogioco e poi però dici che è comunque bello quello è un bipensiero quello è un controsenso che ha nulla a che vedere col voto è proprio un controsenso interno e siccome c'è un controsenso e una non verità qualitativa c'è anche una non verità e un controsenso quantitativa e quindi il voto invece è assoluto nel senso che quando tu vai a esprimere un voto cerchi di dare quel voto che rappresenti come simbolo il valore qualitativo dell'opera perciò su questa cosa non sono d'accordo una recensione o un parere sviluppati senza metodo critico affinato e preciso sono meno utili e meno autorevoli di una recensione o un parere sviluppati da un critico che possiede metodo critico anche qui sì possono essere meno autorevoli perché sembrano meno autorevoli ma il punto nostro è sempre il contenuto di verità questo perché l'analisi di per sé permette soltanto di trovare pregi e difetti ma è il metodo critico a darne un significato in termini di giudizio ad esempio sarebbe bello che leggessi la recensione di Cyberpunk 2077 di Shea dando un occhio a quello che è il corpus di Shea e provando a capire il metodo critico int recuperate i suoi articoli sull'architettura nei videogiochi e la review di GT7 troverete dei pattern metodologici che forse vi faranno capire anche la review di Cyberpunk 2077 spero e questo è possibilissimo e anche giusto che sia così il peso specifico di un difetto è beh specifico cioè dipende dal critico o così ammettiamo che esista una qualche forma o così o ammettiamo che esista una qualche forma di verità assoluta del videogioco che per me non esiste scusa Rob sempre io e però il punto è questo e questo è un punto filosofico che dirò rapidamente perché poi se no apriamo infiniti discorsi non esiste non esiste la il relativismo piccolo cioè non esiste il relativismo parziale che ti dice c'è una verità ma fino a un certo punto non esiste questa cosa o c'è la verità che è la verità appunto oppure è tutto relativo perciò quando si arriva a fare discorsi che vogliono esprimere delle cose vere come questo discorso qui che dice un sacco di cose vere il discorso di Damaso e dice un sacco di cose sul metodo vere si deve dire che c'è la verità però perché poi anche andare a definire il peso specifico è qualcosa che è relativo al metodo e poi quello che succede è che quindi va bene tutto va comunque bene tutto e il senso di trovare il metodo poi svanisce perché se non c'è se il metodo che tu utilizzi è funzionale è giusto rispetto a quello che vuoi dire ma che vuol dire giusto e funzionale rispetto a quello che vuoi dire ci deve essere qualcosa che determina giusto vero e funzionale vero rispetto a quello che vuoi dire o è soggettivo o è relativo ma se è relativo non è più utile davvero questo metodo può essere qualunque metodo allora io ti dico che c'è un metodo e va benissimo non c'è bisogno nemmeno che te lo esplico perché tu possa capire o che tu possa dire è un metodo valido tutti i metodi sono validi anche il non metodo è valido se tanto non c'è una verità oggettiva da trovare da dire in un videogioco perché valgono tutti i discorsi valgono sempre tutti i discorsi perché esistono più verità ognuna corrispondente a un metodo critico differente al segnale che riusciamo a cogliere dell'opera ma così vale tutto perché chiunque ti può dire che ha un metodo e chiunque può darti un metodo effettivamente tu dirai però io poi vado a vedere quel metodo se è effettivamente un metodo valido o no ma valido rispetto a che cosa l'unico criterio ma questo proprio in generale questo è quello che io credo per tutto l'esistente del mondo l'unico criterio valido per stabilire cosa è giusto e sbagliato e cosa funziona o no e tutto quello che ci riguarda è la verità per questo l'unico modo di sapere di capire se qualcosa è valido o non valido è la verità stessa poi è chiaro che questo ci rende ci porta alla solita domanda per come fai a dire che cosa è vero e cosa è falso perché sei solo un soggetto questo è il problema di tutto l'essere umano proprio di tutti i soggetti siamo soggetti siamo soggetti quindi non è detto che diciamo la verità ma c'è la verità da dire e noi dobbiamo ricercarla e ciò che uno dice dipende la verità di ciò che uno dice dipende dalla verità stessa dal fatto che uno dice sbatto i piedi e dico ah questo è vero perché ovviamente così sarebbe il contrario e non dipende nemmeno dal fatto che molti ci credono ne dipende dal fatto che dicono allora tutto soggettivo cioè la risoluzione storica filosofica del problema della verità è dire famo che non c'è la verità e famo che tutto quello che diciamo è valido perché c'è va bene così in questo modo poi a gruppi di forza si stabilisce che cos'è funzionale o che cosa deve fare una cosa a un certo punto e basta senza pensare alla verità e in questo senso così va bene qualunque tipo di critica va bene qualunque tipo di metodo perché non hai gli strumenti proprio concettuali definendo se esiste o no la verità per dire se è funzionale o no il metodo cioè a me come dicevo anche all'inizio non serve che uno abbia per forza un metodo serve che quello che dica sia effettivamente vero e nei discorsi che uno va a fare e anche nei confronti che uno va a fare si determini se qualcosa è vero o falso perché altrimenti così quello che ritorna è assolutamente il fatto che tanto alla fin fine poi ci hanno ragione tutti perché per ognuno proprio come diceva Protagora l'uomo è in misura di tutte le cose alla fin fine ognuno è in misura di quello che pensa lui nel suo piccolo sistema nella sua piccola torre che si è edificato nel tempo che chiama metodo critico ogni cosa che dice è un solipsismo della sua verità ma in questo modo non c'è nemmeno comunicazione perché io potrei dirti va bene tutto non mi interessa quello che hai da dire perché quello che hai da dire sì il tuo discorso è vero è vero ma per tutto il tuo sistema per il mio sistema è vero tutto l'opposto ma questa cosa non può essere normale cioè non può essere vero contemporaneamente ha e non ha principio e non contraddizione non può essere quindi su un gioco c'è da dire c'è da dire una serie di discorsi quello che dico sempre rispetto alla comunicazione fra altri critici è che ogni critico probabilmente coglie un aspetto parziale di quella verità nel senso che la verità non è un'affermazione cioè la verità non è uno la verità è un logos discorso molto grande che contiene tante proposizioni di verità tanti discorsi di verità e questi discorsi di verità non è detto che siano colti subito da ogni critico anche perché c'è sempre la possibilità di dire altro su un gioco fra vent'anni staremo ancora a parlare di altri titoli qualcuno dirà qualcosa di interessante di vero su un gioco e quella cosa si andrà ad aggiungere alle scoperte di verità che sono fatte su quel gioco o uno farà un ragionamento che si scoprirà vero e si cambierà il voto o l'idea che abbiamo di quel gioco questo è sempre un processo che può essere può essere cambiato e questo vale tanto quanto nella scienza che è il metodo la scienza è il metodo della ricerca non è la verità è il metodo della ricerca ma come vale anche per la filosofia che abbraccia tutto la scienza ha un suo metodo quindi il metodo critico è fondamentale la scienza è fondamentale no perché la scienza sicuramente ti dà gli strumenti per arrivare a una verità precisa perché appunto è un metodo ma non è detto che tu non possa dire comunque la verità perché la verità dipende da quello che dici quindi questo è un altro discorso solito che si può fare ovviamente sto aprendo una serie di cose che uno dovrebbe parlarne all'infinito ma non volevo fare un video di un'ora e mezza nemmeno parliamo di un'ora e mezza su questa cosa perché tanto sono discorsi che ripeto sempre volevo fare un video pacchetto di una mezz'oretta che definisse il discorso sul metodo critico in maniera un po' più precisa da mettere su youtube la critica è estremamente democratica ognuno può maturare un pensiero ed esporlo ma per farlo deve appunto maturarlo e riferirsi a una scala non può limitarsi al singolo gioco o appiattirsi a 0 oppure a 10 perché il gioco per sé o schifa una battaglia sociale questo diciamo è un concetto interno nel senso che sì sono d'accordo che non può dare 0 a 10 perché schifa o per sé o una battaglia sociale ma questo vale per tanti altri aspetti è democratica allora la critica è democratica come tutte le cose sono democratiche nel senso che ognuno può dire quello che che pensa come sempre la verità dipende da quello che dici e non dal fatto che tu la dica e basta perché non è tutto vero è vero ciò che è vero è falso ciò che è falso sembra una tautologia ma è l'unico modo per esprimere la verità quindi secondo me non è sostanziale ed è fondamentale che ci sia un metodo critico perché poi definire che cos'è un metodo critico perché uno potrebbe anche dire il metodo critico è l'insieme dei ragionamenti che faccio spesso non l'ho mai esposto come cioè non l'ho mai posto io ipotetico altro critico che non sono io non l'ho mai messo per iscritto ma faccio più o meno sempre la stessa cosa ogni volta che vado a valutare quello è il mio metodo è chiaro che se no non nasceva la scienza e la scienza non aveva questa importanza come dicevamo prima è chiaro che avere un metodo il quanto più rigido possibile che ti costringe a quella serie di esperimenti perché io effettivamente probabilmente tratto il videogioco un po' scientificamente nonostante come sentite non sia il più grande fan della scienza in assoluto cioè continuo a dire credo che la scienza sia il metodo migliore che abbiamo per capire la verità questo sì ma rimane un metodo e non ciò che sta sopra tutto è quello che dice la scienza automaticamente vero sempre perché la verità dipende da se stessa e non da qualcuno che la dice e la scienza è sempre qualcuno che la dice e l'esperimento è sempre qualcuno che lo fa e tocca capire se l'esperimento è valido o meno lo stesso vale per qui cioè il metodo ti dà sicuramente gli strumenti per essere rigido fare degli esperimenti giusti ed essere più preciso possibile ma non è fondamentale perché tu potresti dire cose vere io potrei anche far giocare un gioco a non so un bambino di 10 anni e il bambino di 10 anni ti dice io in questa cosa c'è questo questo e quest'altro è un discorso vero ovviamente tu dirai come fai a dire che è vero sempre perché dipende da quello che dice e non non lo posso sapere se è vero o no nel senso e questo poi ci porta a un problema che probabilmente tratterò in un altro video che è quello della certezza cioè l'essere umano ha un problema con la certezza ma il problema della certezza è un problema doppio cioè è un problema di ritorno del sapere e non è un problema di sapere diretto sempre perché il sapere è qualcosa che è vero mentre la certezza è qualcosa che noi abbiamo bisogno di dirci nuovamente cioè di dirci costantemente stai dicendo qualcosa di vero ma è una conferma che vuole solo l'essere umano e non la verità stessa la verità non ha un problema con la certezza perché la verità o è vera o non è vera la verità è sempre vera perché è verità in questo senso finendo il fatto che il 10 non esiste è una cazzata e ci raccontiamo perché non vogliamo esporre il giudizio che riceviamo dopo averlo dato discorso finale abbastanza postilla certo se tu hai una scala che va da 0 a 10 puoi dare 0 e puoi dare 10 10 si intende perfezione in tutti i campi perfezione in tutte le parti è possibile è possibile anche se comunque si possono fare dei discorsi in questo senso difficile che si arrivi a 10 nel mio sistema per esempio nel mio sistema con i punteggi e con i numeri una volta che stiamo sopra il 95 stiamo parlando di sempre perché c'è l'intorno di valore quando stiamo a 96 97 per me stiamo parlando di se uno dà 100 a quello io do 97 100 non lo puoi dare stiamo lì ma sempre perché l'intorno è quello lì nel senso che quindi se uno dà 99 uno dà 100 non c'è problema se io do 95 100 anche lì più o meno si sta parlando della stessa cosa se il 100 si può dare non è un problema proprio perché comunque esprime lo stesso perché arrivati a un certo punto si sta esprimendo la stessa cosa cioè arrivati a un certo punto ma questo continua nel mio sistema se io do 86 e uno dà 87 stiamo esprimendo più o meno la stessa cosa dare 86 87 a me significa dire semplicemente che quello a cui ho dato 87 è meglio di quello a cui ho dato 86 ma non è che cambia il significato di quello 86 87 proprio perché oltre l'80 85 stiamo a giochi che sono appunto capolavori di una generazione da 95 stiamo a capolavori assoluti della storia dei videogiochi con cui pochissimi giochi possono finire in quell'olimpo dei capolavori della storia del videogioco quindi sempre rapportando il voto a un senso a un valore effettivo di quel gioco secondo me è l'unico modo con cui si può fare spero che questo video sia stato interessante sicuramente ci sono tanti spunti e tanti discorsi che andrebbero approfonditi singolarmente il problema è sempre quello purtroppo quello che succede è che sembra quasi che tiri fuori cose e le butti così direttamente senza collegamento ma dall'altra parte se dovessi fare una trattazione rigida e specifica di ogni cosa che dico ogni cosa sarebbe un saggio che comunque sarebbe anche difficile andare a fare ogni cosa sarebbe un video da tre ore quindi preferisco dire tante volte cose che diano tanti spunti e che il discorso magari si sviluppi anche nelle risposte che potete dare nei commenti nei vostri pareri nei altri discorsi che farò poi nel tempo mi interessava rispondere a questa cosa di Dano perché non sono d'accordo che il metodo sia fondamentale ma sono uno di quelli che il metodo ce l'ha veramente veramente importante anche veramente radicato che prima o poi cercherò di spiegarvi nel miglior modo possibile probabilmente con magari un blog specifico dove metto cose che possono essere lette più che spiegate a voce mi interessava sempre il discorso sulla verità anche perché sono stato tirato in ballo proprio quando si parla di verità ormai nei videogiochi sono quello che viene tirato in ballo sempre in senso negativo nel senso che non trovo nessuno credo che non ci sia nessuno che crede che esista la verità come credo che esista io nei videogiochi fra i critici che ne parlano quindi è interessante sempre il dibattito su questi piani quindi mi interessava rispondere quindi nei commenti approfondiamo tutta questa trattazione fatemi sapere cosa ne pensate tanto di quello che ha scritto Damo tanto di quello che ho detto io e approfondiamo quindi il discorso iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo al prossimo video un'iscrivetevi al canale